Avete una macchina a cui tenete ma che ferma da tanti anni? Guardate questo video. Imparerete qualche cosa prima di rimettere l'install in sicurezza. Qui abbiamo una Fiat Coupé, ne abbiamo già presentato un paio nel corso degli anni, le troverete sicuramente nei video precedenti. Questa è una Fiat Coupé con lo stesso motore della Delta Integrale, quindi 16 valvoli leggermente depotenziata. Una macchina molto particolare, molto ben tenuta, oltretutto con un colore giallo ginestra che è stato lanciato proprio con la Delta Integrale e poi è stato ripreso su diverse vetture particolari della Fiat. Mi viene in mente la Barchetta piuttosto che la 600 Sporting, la Fiat Coupé, quindi un colore particolare. La storia di questa macchina è che il cliente penso l'abbia reeditata, nel senso che ci ha detto che la macchina è stata ferma, cioè è ferma da circa dieci anni. È una macchina a cui lui tiene e quindi ci ha contattato, proprio sulla base dei lavori precedenti, ci ha contattato per fargli fare, cioè far fare a noi una verifica e un controllo generale, perché la macchina comunque è stata tenuta, nonostante sia stata tenuta ferma, è stata tenuta bene, perché poi dipende uno la macchina dove la tiene, se uno la tiene all'aperto si deteriora in maniera rapidissima, se uno la tiene al chiuso ma comunque senza l'umido, qualche piccola cosa lo si vede, lo scarico, qualche cosa chiaramente c'è, però per essere una macchina ferma da così tanti anni ne abbiamo viste di molto molto messe peggio. Quindi il concetto è vi porto la macchina, voi me la ricontrollate tutta e laddove ci sono, diciamo, delle cose da sistemare per questione di sicurezza, per questione di vetustità, me le rimettete a posto, in maniera tale che nel momento in cui la vengo a riprendere, la macchina, che ovviamente è diventata una macchina di interesse storico, la userò per quel poco che la uso, ma la voglio usare in totale sicurezza, in totale tranquillità. Io adesso passerei la parola al mio collega Mirko, che ci doveva mettere le mani fisicamente, fra l'altro apriamo il cofano, così capiamo di che cosa stiamo parlando. Eccoci. Perfetto. Lascierei la parola a Mirko, che appunto vi elencherà i tipi di lavoro, i tipi di controlli che andrà a fare su questa macchina. Allora, per prima cosa, ovviamente, essendo stata ferma un bel po' di anni, andremo a sostituire la cinghia di distribuzione, che anche se era stata cambiata da poco, nel senso all'epoca, però passando dopo 5-6 anni, la gomma si lascia andare e rischia che si rompa. Quindi andremo a cambiare la cinghia di distribuzione, ovviamente la cinghia dei servizi, quella che fa funzionare l'alternatore, pompa acqua e servosterzo. Ovviamente andremo a ripulire tutto il corpo farfallato, e il sistema di alimentazione del minimo a freddo, perché quando si accende, uno non funziona bene, e due, il minimo continua ad andare su e giù, su e giù, quindi bisogna portarlo a lineare. Andremo ovviamente a cambiare candele, cavi candele, il turbo è stato già revisionato, è un lavoro che abbiamo già fatto, quindi è già stato revisionato da poco, e quindi poi ovviamente faremo tutti i controlli, controlleremo se le due centraline famose che si bruciano sempre, che controllano il cilindro 1, 3 e 2, 4, hanno lo stesso amperaggio e funzionano perfettamente, perché su queste macchine, come sulla Delta, se ne brucia una di queste, la macchina gira a due, e tante volte neanche in Fiat riescono a capire che cos'è, ma è una cosa semplicissima da cambiare. E poi nient'altro, faremo il solito tagliando, filtri, olio, quello che c'è da cambiare, cambieremo il liquido di raffreddamento, liquido dei freni, tubazioni, e tubazioni, perché sono ovviamente vecchie, una controllata in generale dei freni, pastiglie, cambieremo anche quelle, e poi basta, poi la macchina per il resto è tenuta, come diceva mio collega Luca, perfetta, non ha ruggine, non ha botte, è stata tenuta molto bene in box, addirittura coperta e rialzata, con dei cuni apposta, per non farla toccare la terra, ammortizzatori sono a posto, verifichiamo magari anche il discorso delle gomme, perché se anche non sono state usate, al di là, vabbè, non dico che sono al limite, però le gomme probabilmente si saranno invecchiate, indurite, quindi anche questo è uno degli aspetti che suggeriremo al cliente di cambiare, io direi per il resto, la macchina si presenta molto molto bene, quindi direi, che anche per questa puntata è tutto, se avete delle domande o qualunque cosa, potete chiamarmi, o rispondo io, risponde Mirko, o qualunque genere di quesito, ci chiamate in sede allo 027383175, vi invitiamo sempre a consultare il sito www.9milagiri.it, così verificate tutto quello che noi facciamo, a livello di lavori, servizi, quindi dal motore a set, impianto frenante, estetica, esterna, interna, tutto quello che noi facciamo, consultate l'archivio elaborazione, perché lì imparate molto, ad esempio Fiat, ci sono, non so, sono proprio a memoria, 150, 180 macchine, ci sono, per dire, uno appassionato di Fiat Coupé, ne troverà 5, 6, 7 schede diverse su queste particolari macchine, con tutta la parte, diciamo, tecnica e i lavori che abbiamo svolto, vi chiediamo di cliccare sulla campanella qua sotto, come al solito, ed iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati su tutto quello che noi facciamo, un saluto, alla prossima!